Bentornati! Allora, nel video di oggi vediamo quali sono le vostre classifiche riferite agli Oscar, quindi quali secondo voi sono le colonne sonore più meritorie, quale secondo voi vincerà e poi ovviamente anch'io farò la mia previsione. Allora, via senza perdere tempo, ho chiuso i sondaggi sul Community Tab, vediamo quindi qual è la vostra classifica di quella che secondo voi è la migliore colonna sonora in cinquina, quindi non quella che potrebbe vincere, non quella che vincerà, ma quella che secondo voi è quella musicalmente più interessante. Al quinto posto American Fiction, con un risicato 4%, però se avete visto il video sulla recensione che è uscito un paio di giorni fa, mi sarete resi conto di quello di cui mi sono reso conto io, e già è che in pochi voi conoscevano questa colonna sonora, però chi l'ha conosciuta, chi l'ha ascoltata o chi l'ha visto nel film l'ha apprezzata. Al quarto posto Kill the Fire Moon, con il 6%, al terzo posto Povere Creature, con il 27%, e abbiamo un exequo, al secondo e primo posto a pari merito troviamo Indiana Jones e Oppenheimer. Allora tenete presente una cosa, questo sondaggio viene arrotondato da YouTube all'unità, infatti se fate il totale vedrete che è 99, non è 100. Quindi probabilmente se andassimo veramente a spulciare scopriremo che magari uno dei due ha il 31,6, l'altro 31,4, quindi si potrebbe probabilmente stabilire un vincitore assoluto, ma insomma visto che il nostro scopo non è quello di consegnare statuette, ma di avere così un sentore di quello che è il nostro gusto, diciamo che Oppenheimer e Indiana Jones solo a primo posto pari merito. Vediamo invece quella che secondo voi sarà con la sua ora che vincerà. Al quinto posto American Fiction con un risicatissimo 1% che però risente secondo me, le ragioni che ho detto prima. Al quarto posto c'è Kill the Fire Moon poco più in alto con il 2%, al terzo posto Indiana Jones con il 15%, al secondo posto povere creature con il 17% e su chi sarà il vincitore apparentemente voi non avete alcun dubbio. Sarà secondo il 65% di voi per cui non abbiamo maggioranza assoluta, in più diviso su 5, maggioranza veramente amplissima Oppenheimer. Per ora vi dico invece qual è la mia personale classifica e chi secondo me vincerà. Partiamo prima dalla classifica musicale. Io metto al quinto posto Kill the Fire Moon, probabilmente non l'avete già intuito dalla recensione che ho fatto, no non mi è piaciuta, non mi è piaciuta, l'ho trovata giusta per il film, ma insomma a parte mi invito se ne avete piacere andare a sentire la recensione che ho fatto, ma insomma musicalmente decisamente l'ho trovata ridondante e anche abbastanza nuosetto, quindi a me personalmente non è piaciuto. Sarete forse un po' stupiti del quarto posto che secondo me va Indiana Jones e ci va non per motivi musicali puri, anche qui se volete vi invito a vedere la recensione che ho fatto, perché comunque musicamente è bella e molto ben fatta, ma perché ho voluto premiare diciamo più l'originalità e più il coraggio di certe scelte che non la musica pura, anche perché questa con la sonora come progetto della recensione, se la eppuriamo dai temi, dal tema principale di Indiana Jones, arrivano una bella score di commento, ma niente che resterà negli annali. Al terzo posto mi piace Poor Things, povere creature, che anche qui vi invito se volete andare a vedere la recensione che ho fatto, che secondo me va premiata per l'originalità, va premiata per il coraggio di un ragazzo di non ancora 30 anni che potrebbe essere un inizio di un qualcosa. Al secondo posto c'è Oppenheimer, che ancorché non l'abbia trovato musicalmente eccelsa, cioè come dire, sicuramente il buddista dell'ascolto in Indiana Jones è cento volte più godibile, però Oppenheimer è molto interessante il buddista su loro, è molto interessante questo esperimento, perché se volete andate a sentire la recensione che ho fatto ormai un bel po' di mesi fa, quando avevo vaticinato anche un gruppo, un sostanzioso numero di candidature all'Oscar e non sono alla colonna sonora e di conseguenza sapete che per me è l'ultima rimasta, per me è la migliore colonna sonora dal punto di vista musicale e American fiction. Non sto ripetendo mille ragioni, se volete andatevi a vedere il video che ho pubblicato un paio di giorni fa proprio sulle mesi di questa scuola. Ma ora, chi vincerà secondo me? Allora, diciamo che tutte e cinque queste nomination hanno dietro una ragione che potrebbe essere extra musicale e non capita molte volte, cioè negli anni passati molte volte c'erano un paio di corne sonore che erano, insomma, le più belle, le più famose, anche nell'ambito del fatto che è uscito da pochi mesi, insomma, magari vino appunto da altri film, erano fatte da autori particolarmente importanti, vari inzimi, Zimmer, Newton Howard, Williams, eccetera, eccetera, e quindi in certi casi c'erano come di due o tre testa di serie che realmente concorreva per i vittori e poi magari c'erano uno o due titoli che erano un po' gli outsider, che poi gli outsider regolarmente restavano. Però quasi sempre erano motivazioni musicali. In questo caso, invece, in queste cinquine abbiamo cinque buone ragioni per cui i giurati dell'Academy potrebbero decidere di votare una qualunque delle cinque. Potrebbero votare Kill the Soul of the Flower Moon per la ragione che essendo morto da poco Robbie Robertson, tutto probabilmente la struttura cinematografica e organizzativa che c'è dietro a Scorsese potrebbe voler omaggiare questo storico collaboratore del grande regista italiano-americano con un Oscar postumo, ma potrebbe essere un omaggio e quindi il fatto che sia morto da poco credo che potrebbe essere una ragione importante. Ma anche Indiana Jones potrebbe essere votato perché comunque Joe Williams, la sua cinquantaquattresima candidatura, è sempre comunque un nome importante, è sempre una garanzia, ha scritto una bella score, su questo non si discute, per cui non sappiamo, se stanno anche l'età avanzata, insomma, ovviamente gli auguriamo di lavorare altri cent'anni, però ormai sono ovviamente con il sole che fa, sono sempre meno perché sono, perché 90 e passa anni, giustamente sono rallentato un po' il ritmo, quindi potrebbe magari essere l'ultima candidatura, non lo sappiamo, ci auguriamo che ne abbia altri cento, naturalmente, però insomma. Per cui una delle ragioni che potrebbe spingere i giurati dell'Academy a votare per Joe Williams è che è Joe Williams. Potrebbero però anche votare per Poor Things, per una ragione esattamente opposta a quella di Joe Williams, quella di Joe Williams sarebbe una scelta conservativa, quella di Fendrix sarebbe una scelta guardando il futuro. E tenete presente che vincere un Oscar a 29 anni, come l'aveva vinto Ludwig Gorson, poco più a 30, 32 anni, qualcosa del genere, è ovviamente non essere un discorso legato al prestigio, vuol dire un discorso legato all'industria, vuol dire lanciare un nuovo compositore nell'olimpo degli dei compositori di Hollywood e quindi vuol dire aumentare immediatamente le sue azioni, quindi i suoi cachet, quindi è chiaro che immaginate solo banalmente la sua agenzia e come starà spingendo perché se dovessi incerciare l'Oscar i suoi cachet aumenteranno vertigiosamente, quindi vertigiosamente aumenteranno anche ovviamente gli intori della sua agenzia. Ma vetti qua su è una colonna che è fatta da un compitore ancora molto giovane come Goranson, però è molto affermato, è già vincitore di un premio Oscar e che comunque è una colonna sonora molto interessante dal punto di vista sonoro e quindi potrebbe esserci quel giusto compromesso tra il premiare un giovane ma non esordiente e il suo lavoro decisamente interessante perché sia interessante. E potrebbe ruotare però per American Fiction perché è composta da una donna e quindi sapete l'attenzione, abbiamo parlato nella recensione, quindi sapete l'attenzione che in molti casi negli Stati Uniti si mettono a che ci sia una rappresentanza di vari generi e delle etnie eccetera eccetera, quindi potrebbe anche essere che il vero outsider che nella mia prima recensione avevo individuato in Fendix con Poor Things, il vero outsider forse potrebbe essere Laura Cartman con il suo American Fiction, lo vedremo. Ma alla fin fine secondo me chi vincerà? Secondo me vincerà Openheimer. Vincerà Openheimer, adesso tra qualche ora insomma vedremo un po' i risultati. Ripeto, è plausibile che vinca chiunque altro per le ragioni che vi ho appena esposto, però io credo che il lavoro fatto da Ludwig Gorenson ha bisogno di una seconda consapevolezza dell'Oscar per lanciarlo definitivamente come una nuova grande star dei compositori e soprattutto che si è dato anche l'ancor giovane età. Bene, se avete piacere vi invito prima di scoprire tra qualche ora chi ha vinto l'Oscar, andare a vedere i video delle recensioni di tutti i cinque film che ho fatto, iscrivetevi al canale, a voi non cambienete, ma per me è molto importante, attivate la campanella, lasciate un like e lasciate un commento se l'avete fatto in tempo soprattutto a votare nel sondaggio, lasciate un commento qui sotto per dire chi è secondo voi che vince l'Oscar e chi è secondo voi che ha scritto la conoscenza più bella. Da qualche giorno, lo sapete, c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale per cui se avete piacere trovate in descrizione il link oppure qui sotto il tasto abbonati, altrimenti iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video.